Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video di Hot & Cold, la rubrica dove vi parlo dei giochi che ho provato per la prima volta nelle ultime due settimane. Anche se anche questa volta ho saltato un giro e quindi vi parlerò dei giochi che ho provato nelle ultime quattro settimane, quindi nell'ultima parte di aprile e nella prima parte di maggio. I giochi che ho provato sono ben nove, un sacco, quindi cominciamo subito, però come sempre prima di parlarvene promotion time vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video. Iscrivetevi al canale e cliccare sulla campanella per fare tutte quelle diavolerie che si fanno qui su YouTube. Inoltre sempre qui sotto in descrizione vi ricordo che trovate il link da filiazione per acquistare i giochi citati in questo video insieme ai vostri preferiti. Come sempre a voi non costeranno niente di più ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre se siete di Padova o comunque nei dintorni potrete fare i vostri acquisti direttamente in negozio o anche solo per giocare e ancora giocare visto che c'è una ludoteca gratuita. Quindi vi aspettiamo anche lì e inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram. Quindi vi aspettiamo anche lì, soprattutto oggi che esce questo video, sulle nostre storie di Instagram troverete anche le schede dei giochi che citeremo in questo video dove voi potrete dire se sono top oppure flop. Quindi vi aspettiamo ma bando alle ciance, cominciamo subito, sigla! Ed eccoci qui con questa carrellata di giochi, allora cominciamo subito e il primo gioco di cui vi parlo oggi è CELO, l'edizione Pocket, il nuovo titolo targato Clementoni. Non mi soffermerò troppo sulle regole di questo gioco perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. Questo è un gioco in cui ci metteremo alla prova con la lingua italiana, infatti andremo a girare questo spinner che indicherà una delle categorie che possono essere sinonimi o contrari oppure grammatica, lessico o proverbi. Andremo quindi a rispondere alle varie domande, mentre per quanto riguarda i proverbi o comunque i modi di dire dovremo spiegarne il significato. E non è così facile, a volte usiamo dei modi di dire nel modo sbagliato oppure è difficile spiegarlo a parole proprie ed è proprio questo il bello del gioco. Lo scopo è riuscire a rispondere almeno una volta per ciascuna delle categorie, quindi avere, collezionare i bollini dei vari colori delle varie categorie, un po' alla trivial pursuit diciamo. Però ti mette davvero alla prova in un modo secondo me inedito perché non sono quelle classiche domande che dovresti sapere, però che se sai ti dici Ah però ancora mi ricordo questa cosa ed è davvero molto molto carino, ovviamente vi devono piacere i giochi di parole, i quiz, le domande e mettervi alla prova con la lingua italiana. Soprattutto la parte dei proverbi e dei modi di dire mi è piaciuta parecchio, anche quella dei sinonimi e contrari perché guardo un sacco di video su TikTok appunto su questo argomento, quindi quanti sinonimi sai o qual è il contrario di e mi è parso di rigiocarci anche in versione gioco da tavolo, molto molto carino, quindi va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste due settimane, anzi quattro settimane. Per il secondo titolo rimaniamo in casa Clementoni perché vi parlo del regalo bizzarro, anche di questo qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. In questo gioco dovremmo cercare di fare il regalo perfetto, un po' la gift trap che comunque vi lascio qui in alto tra le schede del nostro gameplay di gift trap, mentre per il regalo bizzarro noi avremo una categoria che, che ne so, per il matrimonio oppure per la laurea o la cosa più inutile. Avremo in mano delle carte oggetto, delle carte regalo molto particolari e molto diverse, ne sceglieremo una in base alla categoria uscita e la metteremo al centro del tavolo. Così faranno tutti, il giudice di turno poi mescola le carte, le rivela e sceglierà segretamente qual è secondo lui il regalo perfetto per la categoria. Prima però di andare a rivelare la sua risposta i giocatori potranno votare su, secondo loro, quale sarà la preferenza del giudice. Quindi se avremo scelti come regalo perfetto faremo punti, ma anche se indovineremo la preferenza del giudice faremo punti. Quindi un bel equilibrio, anche per quanto riguarda il giudice, farà punti in base ai voti che ha ricevuto la sua preferenza. Ed è molto particolare, sicuramente sono i riverenti, le carte regalo che ci sono all'interno del mazzo, come la matita con il gommino a forma di natiche, oppure la statua del cane che fa la cacca. Ce ne sono veramente di ogni, di utili e di inutili, è bellissimo scoprirle man mano. Un gioco semplice, perfetto per le famiglie e che da giocare con i vostri amici vi farà fare delle grosse risate. Anche questo va tra i mi piace di giochi che ho provato in queste ultime quattro settimane. Il terzo gioco di cui vi parlo oggi è un gioco che ha già qualche anno, ma che finalmente sono riuscito a recuperare, perché vi parlo di Dig Your Way Out. In questo gioco noi siamo dei carcerati e abbiamo ricevuto l'argastolo. Il nostro compito è quello di fuggire via il prima possibile, scavando appunto con cucchiai, picconi e pale, per raggiungere così la libertà. Gireremo in questo penitenziario alla ricerca di oggetti che ci permetteranno di costruire piccozze e pale, oppure cercando di andare a recuperare, a rubare dei cucchiai, ma anche per pestare le altre persone, per cercare di ottenere ciò che vogliamo. La moneta del gioco sono queste sigarette che riusciremo a contrabbandare per recuperare determinate cose e il primo giocatore che riesce ad arrivare a un dato di punti, scavo, riesce a raggiungere la libertà. L'interazione è molto alta, il picchiare le persone per volere delle cose tramite delle carte armi che si trovano durante il gioco, nel mazzo, ma anche che potremmo costruire, è davvero particolare. Molto cacciorone come gioco, però riesce ben a ricostruire l'atmosfera che c'è appunto nelle prigioni. Oddio, io non ci sono mai stato, quindi mi baso su quello che vedo nei telefilm, però diciamo che è ben riprodotta un po' anche le gang che ci sono a cui ti puoi unire per avere dei bonus, oppure il tuo precedente che ti dà un potere speciale da utilizzare durante la partita, una volta sola al momento giusto, molto molto carine. Ci sono delle carte un po' più forti rispetto alle altre, tipo la rivolta, che mescola un po' tutte le carte che hanno in mano i giocatori, però per un gioco di questo genere ci sta da dio. Semplice perché è facile da spiegare, c'è un po' l'effetto fortuna, ma per un gioco del genere ci sta davvero molto molto carino. Possibile da giocare anche in squadre, ma lo preferisco tutti contro tutti. Per questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste quattro settimane. Il quarto gioco di cui vi parlo oggi invece è un gioco molto piccolo, molto caruccio perché vi parlo di atelier. In questo gioco noi dovremo dipingere dei quattri. Ci sono delle carte al centro del tavolo in una sorta di cerchio e noi potremo o prendere due carte vicine in questo cerchio, oppure al buio dal mazzo, oppure un po', un po'. Man mano poi le scarteremo. Prima scarteremo la tela vuota, poi scarteremo la tela disegnata e poi quella colorata una sopra l'altra. Man mano che andremo però a scartare, a giocare queste carte, per giocarle ci richiederanno dei colori, quindi scartare altre carte dalla nostra mano che hanno appunto dei colori. Tutte le carte hanno i colori, quindi anche le tele bianche disegnate e colorate hanno sopra una striscia di colore, quindi sceglieremo se usare le carte sia per andare a costruire la tela, sia come pagamento delle carte che andiamo a giocare. Il gioco è molto semplice, è una seted collection, quindi collezionare carte. Ci sono anche degli obiettivi, la cosa carina è che il primo che riesce a fare una tipologia di disegno è l'originale, quindi vale un po' più di punti, tutti gli altri faranno meno punti perché sono dei falsi, però secondo me c'è un piccolo problema proprio nel meccanismo, perché all'inizio è molto difficile andare ad ingranare, ti servono molte carte anche per giocare una o due carte davanti a te, però poi inizia ad avere talmente tante carte davanti che è quasi fin troppo facile giocarne altre perché praticamente tutti i colori li hai davanti e questa cosa mi ha fatto perdere un po' il mordente. Non c'è il, come dire, la tensione che sale ma è quasi a decrescere, quasi una corsa contro il tempo e poi sembra finire troppo presto sul più bello, ho pochi dipinti da fare, in due sono solo sette se non ricordo male. Peccato, forse del genere ho preferito Color de Paris, che forse è anche più ben ambientato per questo motivo, per carità il gioco funziona, però non mi è dato quel qualcosa in più, per questo motivo va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in questo ultimo mese. Il quinto gioco di cui vi parlo oggi è una vera e propria anteprima perché vi parlo di Una Notte da Cana. Non mi soffermerò troppo sulle regole di questo gioco, meglio di questo libro game, perché qui sotto in descrizione vi lascio comunque la recensione del primo libro, Un Giorno da Cana, questo è il seguito di queste avventure e ora ve ne parlo. Torniamo finalmente da Lucy, questa cagnolina meravigliosa che a me fa impazzire, se mi aveva stregato nel primo libro, nel secondo libro veramente è ancora una spanna sopra. A difenza del primo non ci sono più avventure da poter vivere, ma una grande avventura investigativa da andare a vivere, però con molte, molte sottotrame, anche qui molti incontri da poter fare e che poi comunque vanno un po' ad riagganciarsi l'una con l'altra in questo grande puzzle. Ovviamente essendo un caso investigativo ed essendo anche un libro game saremmo noi a dover scegliere le varie piste da seguire, ma soprattutto, scusate, fare poi l'accusa finale che sia giusta. I disegni di Tartrotti sono veramente fantastici, come sempre. Poi l'umorismo che c'era nel primo c'è anche nel secondo. Guapo, veramente è uno dei personaggi che amo di più, non vi spogliero niente, ma guapo the best. E l'avventura anche qui. Come il primo, non pensate che sia un libro per bambini o comunque per ragazzi, ma è anche e soprattutto per adulti perché è fighissimo. È soprattutto rigiocabile tantissime volte perché un sacco di cose, di easter egg o comunque di cose da sbloccare per scoprirne altre ci sono. Avrete una buona libertà perché potrete vagare in giro per il castello, non è uno spoiler, o comunque nei dintorni. Bello, bello, bello. Se vi è piaciuto il primo, il secondo vi piacerà ancora di più. Per questo motivo va a finire tra i giochi che mi sono piaciuti in queste ultime quattro settimane. E sì, è il mio gioco, o meglio il mio libro preferito per quanto riguarda questo video. E ringrazio ancora per avermi dato la possibilità ancora una volta di playtestare questo titolo che mi piace da morire. Morto un libro, se ne fa un altro come si dice. E allora vi parlo di un altro libro game che ho avuto la fortuna di playtestare perché è il secondo capitolo di Mactum, Mactum 2, la fuga. Il libro riprende esattamente da dove finiva il primo. Non è necessario aver letto il primo per fare il secondo, ma ovviamente è consigliato. Noi cercherò di non farvi spoiler, ovviamente. Dovremmo cercare di uscire da questo laboratorio, oppure siamo già usciti, non lo so, o meglio lo so ma non ve lo dico. Noi dovremmo fuggire da qualcosa, da qualcuno, da un luogo, chi lo sa. Ma andiamo subito a scoprire bene il passato dei personaggi che abbiamo conosciuto nel primo libro. Le scelte del primo libro un po' si andranno a trascinare anche in questo libro. E la cosa, devo dire, che mi è piaciuta. Anche qui un sacco rigiocabile, un sacco di avventure, o meglio un sacco di bivide da raffrontare. Poi c'è una cosa, una genialata all'interno del libro che mi è piaciuta parecchio. All'inizio non la capivo, continuavo a girare in loop come se ci fosse qualcosa che non andava ed effettivamente ero io che sbagliavo, ma era tutto super ben tematizzato e la cosa mi è piaciuta, quando mi l'hanno spiegata sono saltato sulla serie e ho detto no ma questa cosa è geniale. Ma poi un altro applauso e lo ripeto, finalmente un libro game, un libro dove sono raffigurate anche diverse tipo di storie e non le classiche storie eteronormate che ormai ce ne sono ovunque. Qui finalmente si può vivere anche una storia diversa dal solito, non diversa perché non è, una parola che a me piace ma che è difficile trovare in questo tipo di intrattenimento, mettiamola così, e la cosa mi ha davvero fatto molto molto piacere. Quindi anche questo mi è piaciuto un sacco perché anche qui come vi dicevo un sacco rigiocabile, tantissime cose da scoprire è diviso in tre atti, il secondo ovviamente è quello principale per poi andare all'epilogo che anche qui diversi tipi di epilogo ci sono e molto molto diversi anche tra di loro, ma soprattutto va a rimettere, ad incastrare tutti i vari tasselli che abbiamo incontrato nel primo e nel secondo libro. Mi è piaciuto parecchio, anche se a me la fantascienza comunque non piace, questo mi è piaciuto parecchio, quindi va a finire anche questo tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime quattro settimane. Il settimo gioco di cui vi parlo oggi, anche questo è un gioco che ha qualche anno, perché vi parlo di Like the Social Game. Questo è un gioco in realtà che non era la prima volta che ci ho giocato, lo ammetto, però me ne ero completamente dimenticato, era giù nel mio garage, poi in negozio ne hanno riparlato e mi si è acceso la lampadina tipo ma io questo ce l'ho, l'ho ripescato, l'abbiamo rigiocato e ho capito perché me ne ero dimenticato. Ecco, è un gioco in cui il gruppo fa il grosso del lavoro, bisogna cercare di creare delle alleanze per fare un po' delle shitstorm ad altre persone, quindi io vado a scontrarmi con qualcuno cercando di avere la maggioranza, quindi avere abbastanza like per vincere il confronto, like che però sono dei gettoni che vengono lanciati a caso e quindi puoi fare delle alleanze con i giocatori che in base a quello che vogliono poi ti aiutano o meno, quando hai iniziato di like sei partecipato alla discussione per gli amici e così via, poi ci sono delle carte troppo forti che puoi giocare ovunque che chiudono così la discussione senza poter fare niente e questo va proprio a rompere sia il ritmo di gioco che a truncare la parte principale del gioco che è la discussione e mi è dispiaciuto tanto e ho capito perché l'avesse dimenticato questo titolo e poteva essere fatto sicuramente molto meglio, poi anche il regolamento scritto male non si capisce quando si possono fare determinate cose, no, non mi è piaciuto e quindi va a finire assolutamente tra i non mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime quattro settimane. Il penultimo gioco di questa lista è Hand to Hand Wombat, il nuovo titolo targato Asmoday, anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole di questo gioco perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. Questo è un gioco di costruzioni alla cieca e di tradimenti, quindi la cosa non poteva far altro che incuriosirmi. I giocatori dovranno in 90 secondi con gli occhi chiusi solo grazie al tatto ricostruire le tre torri, quindi le tre piramidi che ci sono all'interno della scatola con i vari mattoncini sparsi appunto in giro. Noi solo con il tatto sentiremo quanti puntini in rilievo ci sono su quel mattoncino, anche in base a quanto è grande, e li dovremo impilare uno sopra l'altro per fare così una piramide. In 90 secondi tre piramidi con tutte le mani alla rinfusa dei giocatori su questa scatola, ma la cosa principale è che tra i giocatori c'è un traditore, un sabotatore che cercherà di creare marasma o comunque di smontare le piramidi o montarle in modo sbagliato in modo da fare così punti. In base a quante piramidi poi sono state costruite, i giocatori faranno punti o meglio la squadra dei buoni o la squadra dei cattivi, lo scopo è arrivare a tre punti. Ma soprattutto se dopo un round di gioco nessuno ha ancora vinto si va alla votazione. Per prima cosa andremo a indicare il nostro sospettato e poi se ne parla, poi si rivota per poter eliminare qualcuno dal prossimo round. Se una persona riceve la maggioranza dei voti allora viene eliminata senza rivelare il suo ruolo e gli altri continuano a giocare. Se nessuno riceve la maggioranza si procede tutti quanti con il prossimo round. È un gioco in cui devi tradire ma è molto fisico ed è molto diverso rispetto agli altri. Caotico ma di quel caos che ti fa divertire un sacco. Ovvio magari c'è un po' meno bluff perché non puoi tanto parlare o comunque c'è comunque il fatto di intortare qualcuno con le parole dicendo eh sì ho sbagliato cerchi di giustificarti. Però essendo che è qualcosa di molto fisico se ti sentono qualcuno, se qualcuno ti sente proprio con la mano a far qualcosa che forse non dovevi fare è un po' difficile imbrogliare o non farsi sgamare. Infatti consiglio questo gioco minimo dai quattro giocatori in su non in tre perché ci sono tre torri e tre giocatori ognuno se ne prende una e li fai poco. Da quattro giocatori da quattro a sei invece dà il suo meglio ma soprattutto con anche i ruoli quelli particolari come chi può solo passare i mattoncini, chi non può togliere mattoncini dalle torri oppure chi può solo mettere. Quindi è già più difficile ed è già un po' più facile per il sabotatore sabotare appunto il gioco. Ma è molto particolare, divertente, a me è piaciuto un sacco e sapete che i giochi di tradimento mi piacciono particolarmente anche perché questo è diverso da quelli che ci sono. Quindi va a finire senza alcun dubbio tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. Non è vero quattro settimane dai che ho quasi finite quindi non sbaglierò più. Il nonno e ultimo gioco di cui vi parlo oggi è Fantasy Pug Quest, un gioco di carlini magici e non potevo non provarlo. Quando l'hanno portato in negozio e mi hanno chiesto vuoi giocarci? La mia risposta è sì, subito. Ci sono questi carlini che devono cercare di combattere i nemici su questo tabellone. I carlini e i nemici hanno un valore di iniziativa ed è un gioco anche qua di collezione carte di set. Noi andiamo a scartare delle carte per poter attaccare e fare così degli incantesimi per colpire i vari avversari che sapremo già sia l'ordine con cui si attiveranno sia come si muoveranno sia come attaccheranno e quindi quasi una sorta di puzzle game che devi capire che cosa succederà e quindi comportarti di conseguenza. Potremo pescare poi carte nel nostro turno oppure attaccare e andare a ricevere tesori quando andremo a sconfiggere un cattivo e così via. È un gioco collaborativo. Forse bellissimo. Le immagini sono bellissime. I carlini poi sono un amore. Un sacco di giochi di parole come tipo l'ultimo collare se non ricordo male che è tipo l'ultimo anello del Signore degli Anelli e così via. Allora l'idea, il concept è bellissimo anche le immagini. Forse è un pelo lungo, un pelo meccanico ma forse perché è anche la prima partita. Devi stare lì a guardare ogni volta a chi tocca, qual è l'ordine, magari poi i valori di iniziativa cambiano in base a dei bonus che avremo e quindi devi anche ricordarti quello. Quindi questa parte è un pelo meccanica però è abbastanza scorrevole e anche molto piacevole da giocare, devo dire, mi è piaciuto. C'è una buona variabilità in base anche alle varie carte che escono, i vari nemici, come si muovono, dove partono, le carte stagione o temporo, non mi ricordo che vanno un po' a cambiare delle piccole regole all'interno dei vari round di gioco. Meccanico ma bello e poi ci sono i carlini quindi come puoi non amare un gioco con dei carlini magici e quindi anche per questo motivo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in quest'ultimo mese. E questi erano i 9 giochi che ho provato appunto in questo mese. Il prossimo sarà comunque bello pieno anche perché tra pochissimo c'è Play Modena e quindi anche lì una valangata di nuovi titoli tra cui vi posso già anticipare IT, Dreadful Circus, Cala il Sipario, c'è un sacco di cose. Quindi cliccate sulla campanella se non l'avete già fatto per rimanere comunque sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti ma ora tocca a voi. Scrivete qui sotto nei commenti quale gioco vi ispira, quale gioco non vi ispira, che cosa avete provato, che cosa non avete provato. Se siete a Play Modena quindi io vi posso già dire che ci sarò tutti e tre i giorni quindi nel caso ci vediamo lì fermatemi se volete, facciamo una foto così posso anche collegare i nickname con le vostre facce ma soprattutto scambiare due parole così potrete anche insultarmi quanto volete. Comunque come sempre vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, fare tutte quelle diavolerie che si fanno qui sui social. Vi invito poi a lasciare un commento e dirmi la vostra. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate anche i link d'affiliazione per acquistare tutti i giochi citati in questo video, quelli che sono disponibili e insieme ai vostri giochi preferiti come sempre a voi non costeranno niente di più ma così facendo sopporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre se siete di Padova o comunque nei dintorni potrete fare i vostri acquisti direttamente in negozio da noi quindi vi aspettiamo anche perché c'è una ludoteca gratuita e quindi potremo anche giocare insieme. E infine sempre qui sotto in descrizione i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram quindi vi aspettiamo anche lì, siamo ovunque ma soprattutto oggi che esce questo video vi ricordo che tra le nostre storie di Instagram troverete anche le schede dei giochi citati in questo video dove voi potrete dire la vostra se sono top oppure flop così vediamo se le nostre opinioni sono contrastanti o meno e io non mi rimane che darvi l'appuntamento al prossimo video ma soprattutto a Play Modena. Quindi ciao! Grazie a tutti!